I primi che fanno un vero e proprio tentativo strutturato di salire la parete nord dell'Aiger sono questi due che vedete. Si tratta di Max Sedlmayr di 25 anni e di Karl Meringer di 28 anni. Loro sono due alpinisti che fanno parte del gruppo scelto della sezione dell'Oberland di Monaco, del club alpino tedesco, quindi un gruppo alpinistico d'eccellenza per entrare nel quale non solo bisogna avere un curriculum alpinismo di roccio, di ghiaccio importante ma per poter mantenersi all'interno del gruppo bisogna ogni anno effettuare almeno 5 salite estreme dell'epoca. Questo per dire quanto era importante questo gruppo. Ebbene loro fanno parte di questo gruppo però non hanno una particolare esperienza su ghiaccio in particolare sul ghiaccio delle montagne dell'Ovest cosa che vedremo poi gli creerà evidentemente qualche difficoltà in più. Riescono ad avere un contributo di 60 marchi da parte della loro sezione per affrontare il loro viaggio e per andare a tentare la parete nord dell'Aiger. Ricordiamo che loro non hanno punti di riferimento quindi è il primo tentativo in assoluto che si fa davvero alla parete nord dell'Aiger. Arrivano, si registrano all'albergo di Alpingen ma non possono stare nell'albergo ma dormono in una baita a fianco fanno amicizia con Anna Giosi che è la figlia dei proprietari e grazie a questa riescono ad avere un buon pasto ogni giorno la sera. In cambio loro gli spaccano della legna fuori dalla baita. Intanto preparano l'ascensione mettono a posto l'attrezzatura la predispongono bene controllano la parete per le condizioni per individuare un itinerario tutti gli dicono state attenti perché la parete sta scaricando molto è molto pericolosa avvicinarsi alla parete non salire avvicinarsi alla parete allora si stava in questi termini loro sono abbastanza determinati tra l'altro nel frattempo Meringer uno dei due fa addirittura una salita sulla via normale fino alla cima lascia dei viveri perché magari hanno in discesa potrebbero avere bisogno di avere dei viveri ridiscende e si preparano le condizioni sono buone e alle 4 del mattino del 21 agosto partono per la parete e iniziano a salire non hanno punti di riferimento quindi decidono di stare a sinistra del primo pilastro il primo giorno salgono lo zoccolo che è relativamente facile eppur non avendo difficoltà salgono solo 700 metri di livello del resto hanno degli zaini pesantissimi perché devono portarsi tutte le attrezzature da ghiaccio e da roccia non sanno quanto gli serve portano un sacco di viveri materiale da bivacco quindi la loro salita è molto lunga e arrivano praticamente a ridosso delle difficoltà il giorno dopo hanno davanti una fascia di roccia difficile tecnicamente molto difficile e salgono solo 100 metri di disivello il disivello determinato da questa fascia di roccia superando difficoltà di quinto e di sesto grado su quella roccia mezza friabile questo però dimostra che loro su roccia si stanno muovendo molto bene e bivacano proprio alla base del primo nevaio siamo molto in basso le condizioni sono ancora buone tant'è che guardandoli col cannocchiale da sotto non ci sono preoccupazioni pur essendo molto in basso sulla parete però insomma è la prima volta che si tenta questa parete non ci sono preoccupazioni particolari nella seconda giornata anzitutto salgono il primo nevaio con una lentezza esasperante è il canalino che divide il primo e il secondo nevaio il secondo nevaio lo incidono tutti i gradini uno per uno e questo dimostra il loro limite nella salita su ghiaccio un limite che ovviamente li rende particolarmente rendi e allestiscono il proprio sul margine in cima del secondo nevaio allestiscono il loro terzo bivacco quindi i due ragazzi hanno già fatto tre giornate toste dure e il tempo li ha assistiti ma la sera tutto cambia arriva una bufera di neve il tempo è molto brutto la parete al mattino è completamente avvolta nelle nubi solo verso mezzogiorno c'è una leggera schierita dove si vede la parete completamente bianca dalla Clanshide con i binocoli però gli osservatori vedono che la cordata sta salendo poco dopo però si chiude ancora tutto non si vedono più gli alpinisti e continua a nevicare e le condizioni della parete peggiorano visibilmente è chiaro che con queste condizioni meteorologiche la gente comincia a preoccuparsi seriamente della situazione e di che cosa sta accadendo da sopra si succedono tutta una serie di voci che non saranno molto veritiere non potranno essere verificate qualcuno dice che li ha sentiti gridare qualcun altro dice che li ha visti in qualche modo del resto le condizioni meteo sono talmente proibitivi che anche qualche timido tentativo di avvicinarsi alla parete viene respinto immediatamente perché non ci sono veramente le condizioni di sicurezza per poter effettuare un soccorso ad un certo punto si alza intorno al 27 agosto siamo già sette giorni dopo la loro partenza per la parete si apre un pochino e c'è una ricognizione aerea e una ricognizione aerea dalla quale si pensa che il pilota accompagnato da uno dei loro commilitoni individua pensa di aver individuato un corpo sopra ferro da stiro e qui vediamo su questa immagine il percorso effettuato dai due forti alpinisti monachesi e il punto nel quale è stato trovato il corpo e poi verranno ritrovati anche dei residui più avanti negli anni del bivacco quello che da allora quel punto lì verrà chiamato il bivacco della morte quell'itinerario nella parte bassa non sarà mai più salito verrà salito tantissimi anni dopo se non ricordo male siamo addirittura 40 anni dopo che verrà ripetuto per la prima volta quell'itinerario arrivano giungono da monaco una squadra di soccorso specializzata del club alpino tedesco tra l'altro nella quale c'è anche il fratello di Selmeier Henrik ma come vediamo in questa immagine i soccorritori gli dicono e gli fanno vedere che non ci sono le condizioni indicano le zone ma per poter effettuare un soccorso si fa qualche timido tentativo ma poi sostanzialmente si decide di rinunciare il corpo di Selmeier sarà recuperato solo l'anno successivo e qui nell'immagine vediamo il fratello con i poveri resti del corpo e addirittura quello di Meringer sarà recuperato solo nel 62 quindi tantissimi anni dopo quasi 30 anni dopo questa vicenda è la prima tentativo vero di salita della parete Nordelager in Germania sarà salutato dalla stampa come degli eroi nazionali che hanno fatto un tentativo importante ma che il brutto tempo li ha respinti nella stampa invece svizzera c'è una critica abbastanza forte che emerge da un elemento importante lì c'è la paura che il nazionalsocialismo che andava fermandosi avrebbe portato di gruppi di fanatici a sostenere una concezione dell'alpinismo come lotta per la vita o per la morte una concezione che avrebbe snaturato completamente il rapporto con la montagna e creato delle difficoltà è vero questo? beh lo sapremo solo andando avanti nel raccontare la storia della salita della Nordelager ma per intanto abbiamo avuto il primo vero tentativo già finito in tragedia grazie